Musica Benvenuti al terzo appuntamento di Diritto di Replica. È un programma web di sport e calcio in onda su Youtube e sulla pagina Facebook TG7 Basilicata con notizie, commenti e approfondimenti con ospiti in studio. Ringraziamo chi ci ospita, la location Il Filotto, Arrioniero in Vulture e in particolare Antonio Di Lucchio. Ma passiamo a presentare i nostri ospiti. La responsabile comunicazione è S.M. Elfi Calcio, Brunella Centanni e il direttore sportivo Grumentum Valdagri, Angelo Mastroberti. Poi abbiamo i nostri due opinionisti, Antonio Petrino e Francesco Preziuso. Passiamo a leggere la nostra classifica. La classifica campionato eccellenza Lucana dopo 19 giornate. Melfi 47 punti, Grumentum 46, Lavello 43, Vulturrio Nero 42, Real Senise 30, Policoro 29, Real Metapontino 29, Real Tolve 24, Moliterno 23, Ferrandina 19, Montescaglioso 17, Pomarico 16, Ripacandida 14, Avigliano 13, Murese 10, Latronico 9. Avigliano e Latronico due partite in meno. Real Senise, Policoro, Ferrandina, Pomarico, Ripacandida e Murese una partita in meno. Passiamo alle domande dei nostri ospiti. Cent'anni, come si metabolizza una sconfitta come quella di domenica scorsa nell'atteso derby con la Vultur? Buonasera a tutti. Allora, metabolizzarla, non so se l'abbiamo ancora metabolizzata, però oggi la settimana inizia e quindi, la settimana calcistica intendo, e quindi sicuramente dobbiamo pensare solo all'impegno che ci aspetta domenica. Cancelliamo tutto, è stato un brutto stop, soprattutto per tutti, per i nostri tifosi, per i ragazzi che non sono stati in grado di esprimersi al meglio, per noi società, però diciamo che una sconfitta, una seconda sconfitta in 19 giornate, insomma, ci può stare. Il peccato è che sia arrivata proprio nel derby. Grazie. Mastroberti, una squadra inarrestabile e determinata. Peccato per la farsa partenza con le tre sconfitte iniziali. Sì, noi siamo partiti con l'obiettivo di giocarcela quando sapevamo che le forze erano queste, i valori sarebbero venuti fuori. Lavello, Rionero e soprattutto Melfi erano il resto tra le favorite per vincere il campionato. Noi eravamo tra questi, però siamo partiti malissimo per una serie di fattori, perché una squadra quasi tutta nuova, problemi di inserimento di qualcuno. Insomma, abbiamo avuto i nostri problemi, li abbiamo pagati cari. Poi abbiamo avuto questa bella striscia di risultati che ci ha portato a giocarci adesso con il domenica a Melfi, che è già un traguardo. Dopodiché sicuramente il campionato non si decide domenica, perciò ci saranno ancora tante partite, tante battaglie da affrontare, ma noi siamo consapevoli della nostra forza, come ovviamente sappiamo, del valore degli avversari. Benissimo. Antonio Petrino, due domande per i nostri ospiti. Allora, Brunella Centanni, non era assolutamente nelle previsioni, neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe pensato di perdere a Lavello, ovviamente a Venosa, e di perdere il derby con la Vulture ancora più o meno probabile dal punto di vista anche dei valori in campo e dei risultati. Sinceramente nessuno se l'aspettava sul banco degli imputati, a questo punto, secondo le polemiche e le indicazioni dei tifosi, la difesa. C'è qualcosa che non funziona a questo punto in difesa e addirittura qualcuno ha paventato l'ipotesi che la società non vuole vincere il campionato. Allora, diciamo che il calendario non ci ha aiutato, non ci ha aiutato la sosta e non ci ha aiutato neanche il rinvio per Neve, perché probabilmente avremmo parlato di tutta un'altra storia se avessimo giocato le partite nella scia positiva che avevamo. Le sconfitte sono diversissime, perché noi abbiamo perso contro il Lavello, dimostrando in campo di essere sicuramente superiori, perché se la partita fosse finita a 4-0 primo tempo nessuno avrebbe potuto obiettare niente. I nostri ragazzi sono arrivati a tu per tu col portiere almeno in 4-5 occasioni, ma la palla non voleva entrare in nessun modo. Ci ha provato Bongermino, ci ha provato Saurino, Nardozza, Mastroberti. Quando le partite si mettono così e poi prendi due gol in un minuto, è logico che diventa tutto più difficile, perché l'avversario poi si chiude, non ti fa più giocare. E comunque anche all'ultimo, nonostante eravamo in 10, potevamo fare il colpaccio almeno di prendere il punto del pareggio, che sarebbe stato sicuramente più meritato. Però noi non siamo usciti male da Lavello, anzi anche la nostra autostima non ne ha risentito, perché comunque chiunque ha visto la partita sa quello che noi abbiamo fatto. Tutta un'altra storia è stato il derby. Arrivato in un'altra settimana particolare, sempre col maltempo, non siamo riusciti ad allenarci bene, i ragazzi di Potenza non sono riusciti purtroppo a partecipare agli allenamenti del fine settimana, perché sono rimasti bloccati, c'era il dubbio, si gioca, non si gioca, si gioca, non si gioca, alla fine abbiamo giocato. Non credo che si possa, sicuramente in una giornata no per i nostri ragazzi, perché io non ho visto i ragazzi che hanno giocato le altre 18 partite, quindi sicuramente c'era qualcosa che non ne andava, che il mister, la società, analizzeremo in settimana. La giornata no però può capitare, non bisogna farne una tragedia. Come diceva il signor Mastroberti, loro ne hanno perse tre consecutive e nessuno contestava. Ritengo che neanche da noi si debba fare allarmismo per una sconfitta sicuramente brutta, soprattutto per i nostri super tifosi che non se la meritavano, perché sono arrivati in oltre 500. Dopo 14 anni di Lega Pro, venire a rionire in 500, cantare per 90 minuti, anche oltre, continuare a sostenere la squadra, i tifosi assolutamente non hanno contestato i ragazzi. C'è stata qualche voce di contestazione, io non mi sento di mettere sul banco degli imputati la difesa. La difesa è la stessa che ci ha permesso di essere primi dopo 19 giornate. Ci può stare l'errore del singolo, ma l'errore del singolo dopo i 40 secondi, chi può condannarlo? Il ragazzo ha sbagliato, magari l'errore dell'attaccante viene visto meno? No, hanno sbagliato gli attaccanti a non segnare, ha sbagliato il difensore in quell'episodio. Certo, un derby davanti a 1500 spettatori, Antonio, dopo 40 secondi stai sotto, non è facile. E comunque eravamo riusciti a riportarlo sulla strada giusta. Poi, nel nostro momento migliore, in cui comunque, secondo me, potevamo anche vincere, abbiamo subito il secondo gol. Anche lì, un errore sciocco, ma io non me la sento di dare la colpa alla difesa. E sull'ultimo appunto che mi hai fatto, il fatto che noi non vogliamo vincere, allora noi, noi società, non eravamo partiti per vincere. Non ci siamo mai nascosti, nel senso noi a luglio non sapevamo neanche che avremmo fatto. Si pensava di fare una squadra con dei ragazzi vicini, di non prendere nessuno. Le circostanze ci hanno portato a fare una squadra totalmente diversa, ma le circostanze sono state date anche dai ragazzi che sono voluti venire a giocare a Melfi, fortemente, come il nostro capitano Gianluca Saurino, che ha rifiutato tantissime offerte perché lui voleva essere il capitano dell'AS Melfi. Allora lì, un ragazzo così fortemente che desidera di venire, uno non gli dice di no. Quindi è logico che noi l'abbiamo accolto bene, come poi abbiamo accolto tutti gli altri. Logico poi, quando è arrivato Bongermino, quando è arrivato Rocco Mastroberti, tutti hanno iniziato a prenderci magari un po' più sul serio, ma io credo che tutta l'estate veramente noi eravamo considerati come l'ultima ruota che probabilmente non so se ci saremmo salvati perché non si capiva niente. Molti ragazzi ci hanno rifiutato, altri invece sono venuti con tanta volontà. Noi adesso eravamo a più sette, adesso siamo a più uno. Noi non lo butteremo, noi vogliamo vincere. Quindi questo non esiste, che noi adesso molliamo. Questo deve essere chiaro a tutto l'ambiente, a tutti i nostri tifosi, che quando sei sopra non esiste il fatto... Non si può pensare che la società vada dai ragazzi a dire andate in campo e perdete. È una cosa proprio surreale per me. Nell'ipotesi più auspicabile che il Melfi dovesse vincere il campionato, come molti sperano, come potrebbe essere, come sta andando, ci sarebbero a tuo modo di vedere le condizioni per poter disputare una Serie D tranquillamente, da tutti i punti di vista? Allora, noi siamo la S Melfi, Antonio. Cioè, Melfi è una città che ha fatto 14 anni di Lega Pro. Quindi una città come Melfi non si deve porre il problema che non può disputare la Serie D. Una società come la S Melfi può disputare la Serie D. Non so se potrebbe disputare ancora la Lega Pro. Questo non lo so, perché sicuramente è una realtà magari troppo grande per il nostro bacino d'utenza e tutto. Però noi sappiamo, cioè io sono orgogliosa di essere qui a nome della S Melfi e quindi questo è l'ultimo dei problemi che devono avere i nostri sostenitori. Francesco Prezioso, due domande per i nostri ospiti. Brunella Centanni, la sconfitta di Rio Nero, possiamo dire, è stata un piccolo incidente di percorso. Cosa non ha funzionato nel Melfi in questa partita? L'unica cosa, cosa le è piaciuto di più della sua squadra e cosa di meno? Allora, cosa non ha funzionato? In realtà non abbiamo ancora incontrato i ragazzi, lo faremo oggi pomeriggio. Da esterno posso dire che sicuramente c'è mancato quello che ci ha portato sempre a vincere. È mancata un po' di grinta in più, magari ci voleva, ma magari sono stati bravi gli avversari, perché comunque dobbiamo dire che abbiamo incontrato una squadra che aveva come obiettivo stagionale vincere contro di noi e ci sono riusciti, quindi anche bravi agli avversari che ci sono riusciti. Il nostro obiettivo stagionale era vincere il derby, non ci siamo riusciti, ma tenendo conto che la settimana dopo avevamo il grumentum, quindi occhio alle ammunizioni, occhio alle espulsioni e chi era diffidato. Noi non è che siamo scesi in campo a dire facciamo la partita della vita e poi il campionato finisce. Noi siamo scesi in campo dicendo ragazzi attenzione perché fra sette giorni abbiamo il grumentum in casa. Quindi cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto il risultato. Cosa mi è piaciuto? Mi sono piaciuti tantissimo i nostri sostenitori. Per me, io sono stata in mezzo agli Ultras, per me è stata una grande emozione, è stato bellissimo. I ragazzi hanno dimostrato un forte amore, un forte attaccamento, quindi sicuramente voto 10 alla Curva Sud, alla Brigata e a tutti i gruppi organizzati e quello che non è andato per me è il risultato. Un risultato, come abbiamo detto, che riapre i giochi per la promozione in Serie D. Infatti il grumentum si porta a meno uno, meno quattro il lavello e meno cinque la Vulturio Nero. Domenica arriva a Melfi il grumentum. Come vive l'ambiente melfitano, l'attesa per questa importantissima sfida? Allora, come ci stiamo preparando? Beh, sappiamo che è una partita molto importante. Loro arrivano carichi di record, poi magari il direttore ce li racconta, però noi siamo forti del fatto che sono due stagioni che nessuno viene a vincere all'Arturo Valerio in campionato. Quindi anche loro, beh, non hanno proprio da stare tranquilli, se lo vogliamo dire. Noi sappiamo il valore della partita, sappiamo che la squadra del Presidente Petraia è stata allestita per vincere il campionato, ci sono giocatori importanti. Noi non siamo partiti con questo obiettivo. È logico che adesso siamo lì e l'obiettivo non lo lasceremo andare. Quindi la partita noi la giocheremo come abbiamo giocato tutte le altre partite, con la voglia di vincere. Poi, se ci riusciremo, sicuramente ci darà forza e consapevolezza della nostra forza. Se non ci riusciremo, il campionato comunque non è finito. Nel senso che vincere con il Grumentum, prendere tre punti e poi andare a Pomarico e perdere, sono comunque tre punti. Non è che c'è una partita più importante e una partita meno importante. Conterà poi alla fine chi è sopra. Sicuramente il calendario non ci sta aiutando perché abbiamo tutte sfide complicate, ma le squadre che noi stiamo incontrando poi le incontreranno anche le altre. Quindi è normale che noi sette punti di vantaggio li abbiamo presi tutti alla fine. Quando il Grumentum ha incontrato il Lavello, quando c'è stato lo scontro tra il Lavello e la Vultur. Partite che ovviamente per loro ci saranno più avanti. Noi ce le stiamo facendo adesso, speriamo di uscirne al meglio e io sono abbastanza fiduciosa per i miei ragazzi. Angelo Mastrobelti, allora, primo obiettivo stagionale conquistato, la Coppa Italia. Obiettivo dichiarato anche da parte del Presidente della società di vincere a tutti i costi il campionato perché ci sono le condizioni. Quanto è stata grande questa soddisfazione della Coppa Italia innanzitutto? Noi siamo in realtà diametramento opposta a quella di Melfi e di Rionero, ma anche quella di Lavello. Questa è una società che è nata praticamente tre anni fa dalla fusione con il Grumento e Villadagra. E quindi vincere la Coppa dopo tre anni di vita è stato qualcosa che ci ha reso orgogliosi. E soprattutto siamo felici di aver reso felice il nostro Presidente, perché è una persona speciale, passionale. Uno che per la sua terra, più che per la sua squadra, ne è innamorato e quindi il calcio rientra in questo contesto. Perciò è stata una vittoria, anche se era un nostro obiettivo, poi una cosa è averlo l'obiettivo, una cosa è raggiungerlo. Quindi averlo fatto ci ha reso veramente felici. Una nota di demerito potrebbe essere la poca affezione, chiamiamola così, degli sportivi. Mi riferisco al fenomeno dei gruppi organizzati, del sostegno incessante durante le partite. Come vive un po' la realtà di Villadagri? Non è certamente a contraddistinguere questa grande passione per il calcio? Avete questo sentore? Sì, noi la nostra tribunetta la riempiamo comunque ogni domenica quando giochiamo in casa, solo che non abbiamo gruppi organizzati, ma questo nasce dal fatto, ripeto, che non è una squadra ancora con una identità precisa. È la squadra di Villadagri, ma si chiama Grumentum, ma rispecchia l'ambiente di Tiramutola, di Paterno, di altre realtà limitrofe, che poi è quello l'obiettivo che vuole raggiungere il nostro Presidente, quello di essere la squadra dell'Alta Val d'Agri, quindi di rappresentare un po' tutti i comuni. Perciò c'è ancora questo rodaggio da parte dei tifosi, si avvicina, però non c'è ancora questo attaccamento. Però il lato buono della cosa è che quando perdi, e noi è successo le prime tre partite, non abbiamo avuto pressione, non abbiamo avuto polemico, non abbiamo avuto chiacchi, anzi il nostro Presidente è venuto nello spogliatoio a rincurarci. Quindi questo è il rovescio della medaglia di non avere i gruppi organizzati. È chiaro che tante volte vorresti avere la tribuna che è al Melfio, che è al Rio Nero, e andare sotto la tribuna alla fine a festeggiare. Noi lo facciamo comunque nel nostro piccolo, però, ripeto, ci sono i pro e i contro di questi gruppi organizzati. Prossimo turno e pronostico per ogni partita. Chiederò il risultato secco ai nostri due ospiti. Inizia a cent'anni. Ferrandina Latronico, 1x2. X. 1. Melfi Grumentum. 1. 1x. Moliterno Avigliano. 1, Moliterno. Moliterno Avigliano, 1. Murese Montescaglioso. X. 1. Policoro Vulturrio Nero. X. X. Real Sinise Pomarico. Per me è 1. X. Real Tolve Lavello. X per me. Anche per me. Ripa Candida, Real Metapontino. 1. 1. Fiducia Riponata. 1. Passiamo, Francesco Preziuso, per le statistiche e curiosità. Sì, infatti dopo 19 giornate di campionato, queste sono alcune delle statistiche più in vista. Allora, migliore attacco del girone, quello di Melfi e Grumentum con 58 reti segnate. Migliore difesa, Grumentum, Lavello, 11 reti subite. Migliore differenza reti, il Grumentum con più 47. Passando tra virgolette alle maglie nere della classifica, peggiore attacco quello del Latronico con solo 12 reti segnate. Peggiore difesa, la Murese, 42 reti subite. E peggiore differenza reti, il Latronico, meno 29. Poi c'è un record molto curioso di questo campionato che riguarda sempre il Grumentum. La squadra di Mr. Volini, nelle nuove partite disputate in trasferta in questo campionato, ha praticamente vinto tutti gli incontri disputati lontano dalle Muramiche. E' anche un altro record importante, ovvero che in trasferta, zero reti subite per la squadra della Valdagri. Ancora due domande per i nostri ospiti. Cosa teme di più dei prossimi avversari, cent'anni? Beh, hanno un'ottima squadra, quindi in realtà hanno degli attaccanti, Antonello Scavone, Andrea che è stato con noi, Mastroberti l'anno scorso. Hanno un'ottima difesa, quindi noi non li temiamo ma li rispettiamo. Quindi è normale che ci approccieremo bene alla gara, però temere no. Sappiamo che possiamo farcela. Stessa domanda per Mastroberti? Beh, direi i due attaccanti è abbastanza facile. Noi temiamo il Melfi, noi temiamo la squadra. Io non faccio nomi perché con molti di loro ho avuto il piacere di averli, e quindi abbiamo vinto anche insieme. Quindi dire che si teme di più Mastroberti piuttosto che Nardozzi, o chi, voglio dire, è fino a se stesso. Noi temiamo il Melfi in quanto è una corazzata costruita per vincere, al di là delle frasi diplomatiche della signora, ma è chiaro che è una corazzata e in quanto tale va rispettata. Però non è presunzione, non è che non la temiamo. Noi sappiamo la nostra forza, ce la giochiamo, e sappiamo che se dovesse andare male ritorniamo a quattro punti. eravamo a sette due domeniche fa, quindi voglio dire cambia tutto sommato poco perché fino alla fine, come diceva la signora Mirella, ci sarà da battagliare con tutti quanti, però noi ce la andiamo a giocare tranquilli. Sappiamo che possiamo tranquillamente anche vincere, questo sì. Grazie. Antonio Petrino e Francesco Preziuso, domande? Sì, due curiosità per Angelo Mastroberti. Innanzitutto, questo curioso si parietto padre-figlio in casa Mastroberti. Sì, Andrea ogni anno dico che non deve venire con me perché poi condiziono lui più che altro, perché poi quando ci sono dei problemi magari è il primo a pagarne perché in questi casi per non far vedere che fai favori fai assolutamente torti, quindi il primo che se c'è da sgridare qualcosa, se c'è pure una multa, anche simbolica, magari per gli altri non succede, per lui sì, quindi non è un vantaggio per lui, però alla fine voglio dire, se gioca evidentemente perché lo merita, non certo perché è mio figlio e non mi condiziona questo e non condiziona lui. Allora, il mister Alberico Volini non lo discutiamo, però c'è stato un momento dopo le tre sconfitte che può aver rischiato la panchina? No, rischiato la panchina no perché come dicevo prima abbiamo la fortuna di avere un presidente che è molto riflessivo, non agisce distinto perché in genere dopo tre sconfitte, specialmente quel del Rio Nero che venne proprio in modo molto brutto, noi potevamo vincere dominandola quella partita, abbiamo preso due gol in due minuti, è stato un momento di blackout totale, però non ha rischiato niente per la tranquillità per cui dicevo prima del nostro ambiente, però è chiaro che contano i risultati, la fine il calcio è questo, dalla Serie A alla terza categoria contano i risultati, perdi tre partite su cinque, è dura, poi siamo stati bravi a vincere a Policoro mi pare la partita dopo aver perso con il Melfi, non ci siamo più fermati, però è normale che ci sia qualche malumore, però non più di tanto, ripeto, non ha mai rischiato effettivamente la panchina. Direttore, intanto vi ringraziamo per la vostra disponibilità e collaborazione, ovviamente ci prefiggiamo di avere anche il presidente Petraglia in una delle prossime puntate, analizziamo un attimo la situazione della classifica, a prescindere dal big match di domenica prossima, è paradossale, nelle prime quattro posizioni ci sono tre formazioni del Vulture, lasciamo da parte la Vulture che non ha dichiarato nell'immediata vigilia di questo campionato di voler ambire a vincere il torneo, ci sono la Velle e Melfi ovviamente attrezzate con delle super squadre e super società a poter ambire a questo traguardo e c'è il Grumentum, paradossalmente il Grumentum vuole ovviamente essere tra i tre litiganti la squadra che deve e vuole godere, dove si potrebbe decidere questo campionato? Beh, intanto domenica è sicuramente una giornata importante, come dicevamo prima, ma non si decide nulla perché, ripeto, le partite sono ancora tante, noi domenica abbiamo vinto 4-0 col Pomarico, ma fino a un quarto d'ora della fine ce la siamo veramente sudata perché non ti regala niente nessuno, man mano che mancano meno partite, gli obiettivi, i play-out, evitare la retrocessione, entrare nei play-off, voglio dire ogni squadra ha le sue motivazioni, non riesco adesso a leggerla quale partita potrebbe essere decisiva, quale giornata potrebbe essere decisiva perché ne mancano tante. Cento, vincendo noi domenica è chiaro che il Melfi, noi se perdiamo rimaniamo secondi, il Melfi dopo tutto il campionato fino adesso non è più primo, quindi è chiaro che anche a livello psicologico la pressione dell'ambiente per loro potrebbe essere una bella botta, questo sicuramente, però ovviamente non si decide nulla perché, ripeto, rimarranno comunque là, siamo tutti poi nel giro di due o tre punti e ce la giochiamo, in fondo sono le quattro squadre che in un modo o nell'altro sono quelle preventivate e quelli siamo, quindi secondo me ce la giochiamo davvero fino alla fine, anche perché noi l'ultima giornata andiamo a livello, quindi voglio dire, parlare adesso di come potrà andare a finire, è chiaro, vincendo domenica è un'iniezione di fiducia importante per noi e, ripeto, può essere una botta importante per il Melfi, però, insomma, vediamo. Brunella Centanni, Melfi Calcio merita sicuramente, senza ombra di dubbio, una maggiore considerazione, da qui un input da lanciare forte agli imprenditori e all'amministrazione comunale, qualcosa ci vorrebbe per sensibilizzarli oltremodo? Beh, sicuramente tutti sono stati abituati negli anni alla gestione del nostro superpresidente Peppino Maglione, che comunque è riuscito sempre a circondarsi di persone positive, a fare sempre tutto al meglio, e quindi il popolo melfitano comunque si aspetta sempre grandi cose. Il sostegno sicuramente ci vuole, non che ci manchi, però sicuramente si può fare qualcosa in più, questo sicuramente nell'ottica in cui noi riuscissimo a vincere il campionato, sicuramente tutte le aziende di San Nicola dovrebbero contribuire maggiormente a sostenerci, questo non c'è dubbio, però io credo che la partita di domenica può dare una svolta anche su questo, nel senso che c'è ancora un po' di paura, un po' di timore, dell'illusione, del campionato, come va, come non va, comunque noi non siamo ben conosciuti, dobbiamo lavorare, siamo una società nuova, alla fine è vero che mi piace sottolineare che la S. Melfi è forse l'unica società lucana che non è mai fallita, nel senso che comunque il presidente Maglione è riuscito nell'impresa di stare nei professionisti 14 anni e poi lasciare la squadra senza fallimento, quindi la matricola è sempre la stessa e noi siamo subentrati prendendo questo importante fardello, è logico che sappiamo che è un percorso difficile, ma anche noi siamo nuovi, cioè nel senso che se uno poi riflette, anche la S. Melfi per quanto tutta la sua storia, noi siamo tutte persone nuove che comunque si stanno impegnando, ci stanno provando e speriamo di riuscire a dare ai Melfitani quello che meritino. Un'ultima considerazione, una squadra che merita per i trascossi storici e soprattutto una città in proporzione al numero di abitanti, inutile nasconderlo, una maggiore presenza di spettatori, questo succede a Rionero, succede anche a Lavello, però Melfi è prima in classifica, quindi è giusto avere il pubblico delle grandi occasioni. Allora io credo che lo stadio non ci aiuti, nel senso che giocare in uno stadio con una capienza come la nostra, è logico che lo stadio sembra sempre vuoto, riempirlo con 4.000 persone diventa un po' difficile in una gara di eccellenza. Sicuramente noi abbiamo una curva sempre presente, anche in trasferta, che non ci fa mancare mai l'affetto, una tribuna un po' più vuota, soprattutto noi magari a causa del freddo, magari a causa anche di com'è fatto il campo, bisogna arrivarci a piedi e magari questo non stimola le persone a venire allo stadio. Non sono delle giustificazioni. È logico che noi domenica vogliamo e speriamo di vedere un Arturo Valerio strapieno, che tutto il tifo spinga i ragazzi ancora di più, come già fanno i nostri tifosi della curva, ma anche la tribuna, a vincere e a dimostrare che cos'è Melfi. Brunella, sicuramente la famiglia Carriero sta facendo davvero bene alla guida della società del Melfi Calcio. Il popolo melfitano, l'agenda di Melfi, vi è grata per tutto ciò che state facendo per il calcio della loro città? Allora, io personalmente, sicuramente essendo molto social, sono la più esposta e quindi spesso sono quella che riceve più affetto e più critiche. La mia famiglia, devo dire che noi, dopo 14 anni di più, dopo una gestione come quella fatta da Peppino Maglione, subentrare a lui, cioè lui è un mito per tutti, ma anche per noi, quindi è logico che noi siamo veramente umili e lo stiamo facendo veramente come operai. Cioè, noi siamo lì, stiamo lavorando per questa squadra perché è nata questa passione smisurata. Io questa squadra la sento un po' come uno dei miei figli. Io ho due figli e la S.Melfi è il terzo figlio. Perché io ricordo com'è nata, così per gioco l'anno scorso, non dimenticherò mai che i tifosi all'ultima giornata mi hanno fatto un regalo, mi hanno premiato e mi hanno detto che mi volevano per altri cent'anni. E io questa cosa non la posso dimenticare, per me non è un lavoro, per me è diventato proprio un amore, un amore proprio come un figlio. Adesso noi ci metteremo tutto, ci metteremo tutto, come si curano i figli, noi la cureremo. Sappiamo che la S.Melfi non è nostra, la S.Melfi è della città di Melfi e dei Melfitani, quindi noi ci stiamo prestando alla causa, dando il meglio e lo faremo fino alla fine. Poi il popolo melfitano giudicherà come è andata, come non è andata, se saranno contenti, non saranno contenti, però io devo dire che a parte anche lo staff, ci sono tantissimi dirigenti di Melfi, la scuola calcio che ci aiuta, quindi non è che siamo soli, magari noi siamo più esposti, però ci sono tante persone che lavorano con noi. Io ricordo i miei incontri con Gian Piero Cerone, che è il nostro responsabile cassiere, e noi facciamo gli incontri a giugno, quando ancora non si sapeva niente, noi facevamo gli incontri e dicevamo noi non possiamo non fare niente per questa squadra. Quindi è logico che io dico che l'affetto c'è, c'è la stima, ma come tutte le novità bisogna anche dimostrare. Noi stiamo cercando di dimostrare tutto il nostro impegno e poi vedremo alla fine, poi il popolo giudicherà. Direttore Mastroberti, lei ricopre un incarico, diciamo una figura importante nell'organigramma del Grumentum del Presidente Petraglia. Sappiamo benissimo che il Grumentum è una società polisportiva, quindi oltre al calcio vengono svolte anche altre discipline sportive che coinvolgono un gran numero di giovani della Val d'Agri. Quali sono le ambizioni prefissate per il futuro da questo progetto Grumentum? Sono fiero di farne parte di questa famiglia del Grumentum perché è una realtà nuova che è nata da pochissimo però è molto ambiziosa, vuole crescere, fa palla a volo, probabilmente farà altre cose anche nei prossimi anni. Quindi farne parte, aiutare a crescere, a sviluppare questa realtà è motivo sicuramente di grande soddisfazione. Quindi è ambiziosa, i dirigenti non sono solo di Villa d'Agri ma come il discorso che dicevamo prima sono dei paesi limitrofi e quindi si cerca di ampliare proprio il senso di appartenenza all'Alta Val d'Agri. Quindi è sicuramente ambiziosa, il Comune so che hanno fatto degli incontri per cominciare a ragionare sui lavori da fare al campo, di ampliare la capienza e quant'altro. Quindi i progetti sono più che positivi, i programmi ci sono poi a chi verrà dopo, a chi ci sarà anche dopo di questa stagione di portarli avanti e di svilupparle sempre di più. Benissimo, termina qui la terza puntata di Diritto di Replica. Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie a voi. Vi invitiamo a seguirci e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Ringraziamo ancora la location Il Filotto e in particolare Antonio Di Lucchio. Grazie a tutti. Ringraziamo i nostri ospiti. 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 Grazie a tutti.